Si è svolta questa mattina l'Istituto Degni di Torre del Greco la nona edizione del progetto Si Saggio Guida Sicuro, voluto dalla Regione Campania in collaborazione con l'Anci, un progetto incentrato sull'importanza della guida stradale in sicurezza, sul senso civico e sul rispetto delle regole da parte dei più giovani. La scuola nel suo percorso di educazione civica insomma tiene particolarmente a cuore il percorso di consapevolezza e di rispetto delle regole da parte dei ragazzi e per questo stamattina è l'occasione diciamo di approfondire e non solo poi di seguire altri argomenti nel corso dell'anno scolastico. Ringrazio l'associazione meridiana che ci ha dato questa possibilità e tutti coloro che sono qui presenti con noi e ci auguriamo veramente che i ragazzi imparino a gestire bene le proprie emozioni, anche la gioia quando si guida una bella automobile. Noi stiamo oramai alle tappe finali degli incontri e ci apprestiamo ad avviarci al momento finale anche del progetto che ci vedrà impegnati nel villaggio che verrà realizzato all'interno della mostra d'oltrimare di Napoli il 17 maggio dove verranno anche premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso di idee e dove ci sarà la possibilità appunto di interagire anche con tutti i soggetti che quotidianamente operano sulle nostre strade per la prevenzione sulla sicurezza stradale.